E' pronto? Sì. Allora, salve, sono la padrona del cucciolo che è in adozione. Mi hanno dato il tuo telefono dicendomi che saresti interessato, è vero? Sì, è vero, tutto ok, tutto vero. Aspetta un attimo, ho appena visto il cellulare, sto chiamando il telefono che mi hanno passato via WhatsApp, ma... Allora, tu non conosci Giovanna De Carli? No, non la conosco signora. Ah, scusa, mi sarò sbagliata, ma guarda, è un cucciolo di Lottweiler, un cane di razza, ora si vendono per 5.000 euro, ma a me piacerebbe regalarlo a persone che non se ne possano prendere cura. Tu hai un cane? Grazie, grazie, no. E se magari ti mando delle foto, magari potresti valutare la possibilità o diffondirle, è un cucciolo bellissimo, sai. Lo prendo volentieri, lo prendo volentieri. Grazie mille. Sì, sì, mi interessa, adesso. Quando c'entrano i soldi è tutto più facile, è vero? Basta che mi dà lei, dobbiamo però, eh, dobbiamo a lei. Quanta gente interessata, c'entro. Non abbiamo più, basta, che lei è salita a me. E' spiritosa. Arrivederci. E non mi chiami più.